Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa. L'obiettivo di oggi è quello di introdurre il linguaggio HTML, in particolare la versione 5 del linguaggio HTML. Iniziamo a capire che cos'è l'HTML. HTML è un acronimo che sta per Hypertext Markup Language. È un linguaggio che serve per andare a descrivere quelli che sono i contenuti che noi riusciamo a vedere su web e i documenti HTML sono strutturati a forma di albero, dove abbiamo elementi, sotto elementi e sotto sotto elementi e via di questo passo fino a un certo livello di annidamento. In generale l'HTML è pensato per andare a descrivere quelli che sono i contenuti, ovvero il testo, il significato e la rappresentazione grafica o visuale, e invece di solito demandata a un altro componente che è descritto con un linguaggio che si chiama CSS, quelli che di solito vengono chiamati fogli di stile. Quindi questa distinzione tra contenuto in HTML e rappresentazione o layout in CSS è un qualcosa che esiste da tempo ma è più forte a partire dalla versione 5 di HTML, che è quella che noi trattiamo. Un po' di storia. La prima versione di HTML è stata scritta nel 1991 da Tim Berners-Lee, che tutti riconoscono come il fondatore del web, perché fondamentalmente ha definito questo linguaggio che è così ubiquo nell'internet di oggi. Nel 99 è stata definita quella che è la versione 4, o meglio 4.01, che è una raccomandazione del consorzio www, il V3C. Nel 2000 una nuova versione, quello che si chiama XHTML, ovvero Extensible Hypertext Markup Language, che è una sostanziale forma di ibrido tra HTML, che è il linguaggio che utilizziamo ancora oggi e che era già stato definito una decina di anni prima, e XML, che era un linguaggio pensato per la trasmissione di dati ma non per essere rappresentato visualmente. Quindi XHTML è un tentativo di andare a fondere questi due linguaggi. Non ha avuto particolarmente successo, anche perché la popolarità di XML è estremamente alta in quel momento e poi scemata nel tempo. XML è ancora utilizzato, ma non in maniera così diffusa come volevano i suoi propositori. Un po' di anni dopo, quindi parliamo quasi di 15 anni, nel 2014 è stato proposto una prima bozza di quello che è HTML5 dal V3C, che è il consorzio che si occupa di definire gli standard attivi su Internet. Era una candidate recommendation perché cercava di mettere assieme una serie di novità, alcune già presenti e implementate in diversi browser, altre magari effettivamente nuove, e per dare il tempo a chi sviluppava browser di andare adattarsi a questi nuovi elementi, di implementarli nei loro prodotti. Si è tradotta in una raccomandazione vera e propria nel 2017 con la versione 5.2. Vediamo un esempio di che cosa è HTML. Allora, questa è una pagina in HTML che contiene un po' di informazioni. Questa pagina HTML può essere sostanzialmente visualizzata come è rappresentato qui sotto, quindi ci sarà un titolo della pagina, ci sarà questo che vediamo, di solito vediamo nella barra del titolo del browser, ci sarà una parte di titolo all'interno della pagina, ci sarà del testo, ci sarà un link. Vediamo i componenti principali all'interno di questa pagina. Allora, il primo elemento in alto, punto esclamativo, doc type HTML, serve per andare a dichiarare qual è il tipo di documento che stiamo utilizzando. Serve per permettere ai browser di capire qual è la variante di HTML che stiamo utilizzando, quindi HTML5 ha questa dichiarazione, se andiamo a vedere HTML4 ha un altro tipo di dichiarazione, mentre invece le versioni precedenti di HTML non avevano alcuna dichiarazione, quindi in assenza di dichiarazione si assume che la versione di HTML sia una versione precedente. Tenete presente che questa dichiarazione è utile per avere una rappresentazione fedele di quello che sono i contenuti, ma tuttavia non è estrettamente necessaria perché i browser sono in grado di gestire tante varianti di HTML e di adattarsi, quindi sono molto tolleranti a qualunque deviazione rispetto a quello che è lo standard. Lo standard stesso è abbastanza variabile. Abbiamo poi una parte di head, che sostanzialmente è quella che è evidenziata qua, che definisce quelle che sono le meta informazioni del nostro documento, ovvero le informazioni relative al documento ma che di solito non vengono direttamente mostrate. Qui due sono le informazioni importanti, il linguaggio, quindi abbiamo un linguaggio, la lingua con cui è scritto il documento, con cui sono espressi i contenuti, e abbiamo poi quella che è una codifica del nostro documento. In particolare qui si fa riferimento a un set di caratteri che si chiama UTF-8, che è quello tendenzialmente più adottato, più diffuso. Un'altra informazione che troviamo qui nella prima parte di head è il titolo. Il titolo sostanzialmente è quello che viene mostrato nella barra del titolo del nostro browser, oppure nel tab, se abbiamo tanti tab all'interno del nostro browser. La seconda parte del nostro documento HTML è quella che viene chiamata body, ed è questa qui sotto. Il body contiene le informazioni vere e proprie che verranno visualizzate all'interno della pagina del nostro browser. All'interno del nostro body abbiamo vari elementi, ad esempio abbiamo questo che è un commento, abbiamo questo che è un titolo, un titolo di livello 1, vedete H1 sta per heading 1, ovviamente come potete facilmente intuire ci saranno H2, H3, eccetera. Questo che vediamo qui è invece un capoverso, che in inglese si chiama paragraph, da cui la P. In generale, attenzione a utilizzare il termine paragrafo in italiano, perché paragrafo in italiano ha sostanzialmente un significato diverso. In italiano il termine paragrafo si riferisce a un insieme di frasi più o meno collegate tra di loro e coerenti, mentre invece il capoverso sostanzialmente è quello che viene terminato da un a capo ed è distanziato dai capoversi successivi. Quindi in realtà, usando i termini italiani corretti, un paragrafo potrebbe contenere più capoversi o potrebbero essere la stessa cosa, quindi un paragrafo potrebbe coincidere con un capoverso. Questi sono un po' gli elementi principali che noi possiamo andare a osservare in un documento HTML e che sono poi visualizzati, come vediamo qui sotto, in termini di contenuti mostrati all'interno di un browser. Qual è la sintassi che abbiamo visto così provvisoriamente nell'esempio precedente? All'interno dell'HTML ovviamente abbiamo dei frammenti di testo. Il contenuto vero e proprio, normalmente HTML permette di andare a trasmettere contenuti testuali. Ovviamente possiamo andare ad includere delle immagini, ma le immagini non sono solitamente incluse all'interno dell'HTML, ma bensì sono dei contenuti esterni a cui l'HTML fa riferimento. Quindi, principalmente, il contenuto direttamente presente all'interno di un documento HTML è testo. Quindi, principalmente, noi conteniamo... Un documento HTML contiene del testo o dei frammenti di testo che sono alternati a quelli che si chiamano i tag. I tag sono tutti quegli elementi che abbiamo visto nell'esempio precedente racchiusi tra i simboli di minore e maggiore. Molto spesso i tag vengono utilizzati in coppia. Un tag di apertura e un tag di chiusura. La differenza tra i due è sostanzialmente che il tag di chiusura include un slash prima del nome. Quindi, ovviamente, p e slash p sono due tag corrispondenti e hanno la funzione di andare a racchiudere quello che è un capoverso. Normalmente, l'idea di usare una coppia di tag ha senso perché tutto il testo o tutto il resto, la parte di documento che è racchiusa tra due tag, ha un significato particolare. Quindi, questi tag, che sono il meccanismo con cui si attua quello che è il markup, ovvero l'annotazione, permettono di andare a denotare tutto quello che è contenuto tra il tag di apertura e quello di chiusura con un certo significato. Ad esempio, se il tag è h1, significa che tutto ciò che è contenuto tra h1 e slash h1 verrà interpretato come un titolo. Oltre a i tag apertura e chiusura, c'è la possibilità all'interno degli elementi, soprattutto nel tag di apertura, di andare a specificare quelli che sono degli attributi. Gli attributi sono normalmente rappresentati rappresentati nella forma di nome uguale valore, dove il valore è molto spesso, ma non è una regola strettamente necessaria, è racchiuso tra apici. Doppi o singoli, in realtà si possono utilizzare tutte e due. L'attributo definisce una caratteristica aggiuntiva di quello che è un elemento, cioè la copia di tag inizio e chiuso e tutto quello che sta dentro, rispetto al semplice tag. Per cui, nell'esempio precedente, un tag che ha un attributo è quello che vediamo qua come A. A, che sta per anchor, è il tag che viene utilizzato per andare a rappresentare quelli che sono i riferimenti, riferimenti, i link ad altri documenti o ad altri contenuti. Ovviamente, io con la coppia di tag A e slash A riesco a evidenziare un frammento di testo. È necessario fornire un'altra informazione fondamentale per un link, ovvero la destinazione. Questo lo possiamo fare tramite quell'attributo che si chiama href e che, in questo esempio specifico che vediamo qui, si chiama demo.html. Quindi, la parola link, come vediamo nell'esempio sottostante, sarà evidenziata e permetterà di andare a collegarsi a quello che è un altro documento che si chiama demo.html. Quindi, gli elementi fondamentali sono i frammenti di testo, i tag di solito utilizzati a coppie e, ovviamente, la possibilità di andare ad annidare un tag, o meglio, un elemento che è dato dalla coppia di tag di apertura e di chiusura all'interno di un altro. Qui, torniamo all'esempio precedente, vediamo come il nostro elemento A, costituito da il tag di apertura A, il testo contenuto al suo interno e il tag di chiusura a slash A è annidato all'interno di un altro elemento, quello che inizia con P e finisce con slash P. Quindi, io posso annidare dei documenti, quindi andare a fornire ulteriori caratterizzazioni di quelli che sono contenuti o sotto contenuti. Qual è la struttura generale di un documento HTML? Allora, abbiamo visto c'è un doc type all'inizio, poi c'è un tag HTML, questo è l'elemento fondamentale, quindi HTML slash HTML racchiudono tutto il nostro documento, in particolare includono due elementi fondamentali che sono head e body. L'elemento head definisce un blocco di informazioni, normalmente meta informazioni, e invece l'elemento body che è un altro blocco di informazioni che sono quelle che rappresentano il contenuto vero e proprio della nostra pagina HTML. Torniamo al nostro esempio, leggermente diverso, vediamo come all'interno della nostra pagina abbiamo di nuovo tutti gli elementi di prima, quindi abbiamo un head con alcune meta informazioni, in particolare il set di caratteri e il titolo della pagina, e poi abbiamo un altro elemento che si chiama body che invece contiene il contenuto vero e proprio. Qui di nuovo abbiamo un capoverso che inizia con P e finisce con slash P al cui interno vediamo annidato un altro elemento che si chiama strong. Ci sono due tipi di elementi fondamentali, gli elementi tipo blocco e gli elementi tipo inline. Gli elementi di tipo blocco sono sostanzialmente degli elementi di tipo di alto livello, definiscono un blocco di testo che di solito prevede una separazione rispetto a quello che precede e quello che segue. Di solito c'è un a capo più un po' di spazio. Nel caso del capoverso di solito c'è semplicemente un a capo e un po' di spazio. Nel caso di un titolo ci sarà ovviamente un po' di distanziamento da quello che precede e un distanziamento un po' minore rispetto a quello che segue. E poi abbiamo degli elementi cosiddetti in line ovvero degli elementi che non prevedono una separazione netta rispetto a quello che precede o quello che segue ma semplicemente vanno a definire delle caratteristiche e sostanzialmente non alterano quello che è il flusso naturale del testo. Quindi il testo continua tranquillamente e semplicemente quel testo lì ha una caratteristica diversa. Nell'esempio precedente quel elemento strong che vediamo evidenziato qua è per l'appunto un elemento in line quindi vedete che il capoverso prevede un a capo prima e uno dopo invece l'elemento che abbiamo denotato come strong che è questo content che vediamo nella visualizzazione della pagina che segue immediatamente sostanzialmente non altera il flusso quindi continua la linea tranquillamente l'unica cosa è che viene enfatizzato viene enfatizzato in questo caso in grassetto e con un colore diverso quindi due tipologie di elementi blocco che quindi è una separazione il capoverso è l'elemento tipico di blocco che noi utilizziamo per i nostri contenuti e poi gli elementi cosiddetti in line che invece non alterano quello che è il flusso naturale del testo il primo elemento che abbiamo menzionato è l'elemento head che contiene ovviamente alcune informazioni riguardanti il titolo per cui il titolo l'elemento titolo che consiste nei due tag di apertura e chiusura title e slash title sostanzialmente è il titolo che verrà utilizzato nella pagina nella barra del titolo del nostro browser e come informazione generale ci dice di che cosa tratta il nostro documento abbiamo il char set che ci dice il tipo il set di caratteri che viene utilizzato il tipo di codifica che viene utilizzato per andare a presentare i caratteri tenete presente che ce ne sono tanti torniamo poi più avanti a parlare di char set e in generale possiamo contenere tante meta informazioni ovvero informazioni aggiuntive che descrivono il contenuto quindi non sono il contenuto stesso ma sono una descrizione di quello che è il contenuto ad esempio posso andare a mettere una descrizione che è una sintesi di quello che contiene il documento parole chiave l'autore tutti questi elementi a cosa servono ad esempio possono servire ai motori di ricerca per andare a indicizzare meglio in maniera più accurata i nostri documenti possiamo avere degli elementi che sono dati dai fogli di stile quindi c'è un elemento di tipo style che contiene al suo interno delle dichiarazioni che utilizzano il linguaggio CSS di cui parleremo più avanti per andare a descrivere come verrà fatta la visualizzazione dei nostri elementi e ci possono essere ovviamente abbiamo visti quando abbiamo parlato dell'architettura generale del web degli script ovvero dei frammenti di codice che verranno eseguiti all'interno del browser quel famoso codice che viene eseguito all'interno del browser che permette di andare a rendere più fluente la fruizione dei documenti perché invece di andare a fare una richiesta al server e aspettare la risposta semplicemente in grado di immediatamente interagire con l'utente riducendo molto i tempi di risposta e quindi dando una esperienza dell'utente molto molto migliore l'altro elemento fondamentale all'interno di una pagina HTML è il body che contiene praticamente tutti gli altri elementi cioè tutto il contenuto del nostro documento HTML tendenzialmente non contiene gli elementi che invece sono presenti dentro head quindi il titolo le meta informazioni ma potrebbe contenere degli script quindi io potenzialmente posso andare a mettere degli script all'interno del mio body in varie posizioni l'obiettivo dell'elemento body io farò il riferimento al termine elemento indicando tag di apertura tutto il contenuto e tag di chiusura oppure la copia di tag ok tendenzialmente userò il termine elemento per andare a indicare per appunto tutto questo insieme quindi l'elemento body è quello che racchiude tutto ciò che verrà mostrato all'interno della finestra del browser che cosa abbiamo abbiamo tutti i frammenti di testo ovviamente e gli elementi che mi permettono di andare a strutturarli in qualche modo per cui tutti questi sono elementi di tipo block ovvero hanno un'interruzione del flusso della pagina quindi un a capo H1 H2 H3 eccetera abbiamo i capoversi P abbiamo dei frammenti che possono essere delle quotazioni quindi dei riferimenti che riportano dell'altro testo che utilizzano il termine blockquote e abbiamo il testo pre-formattato con questo tag che si chiama pre a cosa serve il tag di tipo pre allora sostanzialmente in html i frammenti di testo vengono interpretati come una sequenza di parole per cui il fatto che io tra due parole metta uno spazio due spazi tre linee eccetera è assolutamente irrilevante la spaziatura tra le parole che compongono il testo sostanzialmente viene eliminata e viene sostituita con un semplice spazio se invece io vado ad utilizzare un blocco di tipo pre tutto ciò che compare al suo interno invece mantiene tutta la spaziatura e quindi evita di andare a interpretare gli spazi compattandoli inoltre riporta in maniera fedele tutto quello che compare a capo e spaziature comprese questo è un esempio abbiamo in alto un titolo di tipo H3 vedete che c'è una spaziatura enorme tra il 3 e heading c'è un capoverso che quindi potrebbe includere diverse linee separate cioè andando a capo ma non con un a capo visibile dopo e poi c'è quel blocco pre che è quello preformattato questo codice sostanzialmente verrà visualizzato in questo modo ecco verrà visualizzato in questo modo vedete level 3 heading sostanzialmente ha eliminato la spaziatura enorme tra il 3 heading il capoverso e poi il testo preformattato vedete che gli spazi ad esempio tra source e code in questo caso vengono rispettati quindi nel caso del testo preformattato non c'è nessuna compressione degli spazi e viene riportato tutto così tale e quale di solito c'è anche una visualizzazione che è leggermente diversa normalmente il testo preformattato viene utilizzato per riportare ad esempio dei frammenti di codice di un linguaggio di programmazione per cui per convenzione il codice viene riportato utilizzando un tipo di font che è un tipo di font a singola spaziatura quindi le lettere sono larghe tutte allo stesso modo mentre invece il testo normale ha una spaziatura variabile quindi ad esempio le lettere più strette tipo la I occupano meno spazio rispetto alle lettere più larghe però tutto questo dipende da come e da che stile vogliamo andare a utilizzare quindi dipende dalla parte di presentazione o visualizzazione che di solito viene utilizzata viene specificata tramite dei frammenti di codice CSS abbiamo poi degli elementi di tipo inline che ci permettono di andare a specificare alcune caratteristiche di frammenti di testo senza identificare dei blocchi abbiamo l'enfasi spesso rappresentata in italico abbiamo strong che è una enfasi forte e poi abbiamo gli a capo forzati IBR sostanzialmente all'interno di un paragrafo io posso avere un ritorno a capo senza per forza andare a introdurre una spaziatura significativa quindi andando a mettere un a capo senza magari per motivi di flusso di lettura migliore senza chiudere il paragrafo quindi senza introdurre con la spaziatura aggiuntiva che fa parte del paragrafo piccola nota su le due varianti di enfasi quindi abbiamo l'enfasi che può essere rappresentata con un tag di tipo M oppure con un tag di tipo I qual è la differenza tra i due? allora molto spesso in quasi tutti i browser questi due elementi hanno un comportamento quindi una visualizzazione che è sostanzialmente identica la differenza sta nel fatto che I e B sono originati da versioni vecchie di HTML quindi dalla versione iniziale di HTML c'erano I e B che stavano per Italics e Bold mentre invece nelle ultime versioni di HTML quindi HTML5 si preferisce andare a utilizzare EM e Strong perché? perché I e B sostanzialmente vanno a rappresentare implicitamente anche un tipo di rappresentazione o di visualizzazione mentre invece in HTML5 quello che chi ha scritto lo standard ha voluto fare è andare a definire quella che è una separazione netta tra contenuto e presentazione per cui nel contenuto io non voglio andare a dire questo deve essere messo in italico perché il fatto che sia in italico piuttosto che di un colore diverso è un aspetto di presentazione è preferibile andare a dire voglio mettere questo elemento quindi una sequenza di contenuti con un po' di enfasi e quindi uso il tag EM mentre invece se voglio mettere un'enfasi forte vado a mettere strong che può essere rappresentato in termini di caratteri in grassetto ma non necessariamente inoltre tenete presente che i contenuti che sono rappresentati in un file HTML possono essere sì visualizzati ma ad esempio per chi ha problemi di vista potrebbero essere letti da un sintetizzatore vocale in questo caso in questo caso il fatto che M rappresenta un'enfasi minima mentre invece strong rappresenta un'enfasi forte possono essere sfruttati da un sintetizzatore vocale per andare a rappresentare in maniera più o meno intensa quei frammenti di testo dove invece I e B danno semplicemente una connotazione tipografica e non tanto semantica la connotazione semantica deriva da quello che è la nostra interpretazione del fatto che l'italico è un'enfasi debole e il bold e quindi il grassetto è un'enfasi forte piccolo esempio di cosa vediamo nel nostro visualizzazione quindi se abbiamo un'enfasi debole e abbiamo l'italico vedete che i browser sostanzialmente li rappresentano spesso allo stesso modo in questo caso invece lo stile con cui vengono rappresentati strong e bold è leggermente diverso quindi strong è un'enfasi che oltre a rappresentare in bold mi dà anche un colore diverso di nuovo sono scelte di stile di rappresentazione un altro tipo di elementi che possono essere utilizzati all'interno di una pagina sono le liste le liste ovviamente sono degli elementi di tipo blocco quando inizia una lista ho una interruzione del flusso verticale della pagina l'html prevede di andare a rappresentare tre tipi di liste quelle semplicemente con i punti unordered quindi senza un ordine specifico ordered quindi ordinati e di definizioni in cui ho un termine la sua definizione all'interno di questi elementi di tipo blocco compaiono degli altri elementi anch'essi blocco che sono gli item di elementi della lista che sono introdotti per quanto riguarda le liste appunti e numerate quindi ol e ol tramite degli elementi di tipo li quindi li sta per list item mentre invece per le liste di tipo definizione ho i singoli elementi che sono rappresentati da un dt definition term quindi il termine che voglio andare a definire e dd che è la definizione del termine quando ho a che fare con delle liste non ordinate quindi devo andare a utilizzare l'elemento ul ul abbiamo detto sta per unordered list e gli elementi sono rappresentati come degli elementi li per cui questa html questo forma di html è rappresentata come una lista puntata il fatto che utilizzi dei pallini piuttosto che dei trattini o qualunque altro tipo di rappresentazione di nuovo è una convenzione che riguarda la rappresentazione il contenuto mi dice qui ho una lista una lista i cui elementi sono un item un altro item e un altro item ancora la lista non ordinata è rappresentata invece con il tag tipo ol di nuovo i singoli item sono rappresentati con degli elementi li quindi che cosa varia qui varia sostanzialmente il contesto in un caso si trovano dentro una lista non ordinata ol nell'altro caso si trovano dentro una lista ordinata ol la rappresentazione nel caso specifico è data in questo modo quindi quando ho una lista ordinata avrò gli elementi numerati 1 2 eccetera infine abbiamo quella che è la definizione di termini dove la lista complessiva è data da un elemento di tipo dl definition list invece le singole definizioni sono date da coppie dt dd dt sta per definition term il termine da definire e dd è il definition data che viene quindi rappresentata in questo modo l'elemento il termine e la sua definizione un altro elemento fondamentale nell'html è rappresentato dai link che sono rappresentati sono descritti tramite degli elementi tipo A se ci pensate html sta per hypertext hypertext significa che è un testo con dei collegamenti ipertestuali ovvero che vanno al di là della sequenza normale di lettura del testo ma permettono di saltare ad altri documenti o ad altre porzioni dello stesso documento un documento un elemento di tipo A ha solitamente un attributo fondamentale che si chiama href che è quello che contiene il puntatore al nuovo documento nuovo frammento a cui saltare e eventualmente un attributo di tipo title che è quello che viene mostrato quando io faccio hover ovvero quando il primo puntatore passa sopra l'elemento di tipo A questa è una rappresentazione del di un paio di link vedete che il primo link sostanzialmente questo è un link che ha come punto a cui saltare http slash www.pruito.it e come titolo polito per cui se io vado scusate se io vado a muovermi sopra il link home quello che compare è una piccola descrizione troppo non si vede bene qua l'altro link che è questo ha un href che è slash viq e mi dice che voglio saltare a una pagina che ha come indirizzo slash viq in questo caso ovviamente non essendoci tutto http eccetera è un link relativo quindi si riferisce allo stesso sito in cui si trova la pagina che sto visitando per andare a definire dei link ovviamente i riferimenti sono dati in termini di url url sta per uniform resource locator la definizione è normalmente questa che vediamo qui è un url e quel definito da uno schema ovvero il tipo di protocollo che viene utilizzato due punti slash questa parte è fissa l'host quindi il server inteso come nome di macchina a cui collegarsi slash quello che si chiama path ovvero il percorso della risorsa che io voglio andare a recuperare all'interno del server eventualmente una parte di query che è preceduta da un punto interrogativo che solitamente è una parte di informazione che viene mandata al nostro server ovviamente la parte di query viene presa dal web server e poi passata all'application server e una parte di fragment ovvero un elemento che mi permette di andare a riferirmi a una porzione di testo all'interno di una pagina html ovviamente questa è la sintassi completa io poi posso avere dei frammenti per cui posso non mettere la parte di schema e quindi la parte di schema verrà copiata da quello che è lo schema del documento da cui sto partendo potrei mettere esclusivamente la parte finale di fragment quindi mettere diesis o hash se preferite e il nome del frammento tutto il resto tutto quello che sta prima verrà sostanzialmente preso da quello che è il documento attuale quindi lo schema l'host il path e la query se non sono specificati vengono copiati dal quello che è l'url del documento che sto andando a utilizzare quindi lo schema definisce quello che è un protocollo i due protocolli più diffusi sono HTTP e HTTPS ma ce ne sono tanti altri FTP è un vecchio protocollo oppure c'è anche un protocollo particolare che si chiama file che permette di accedere ai documenti HTML che stanno sul file system locale attenzione quando voi accedete ai documenti che stanno su un file system locale non c'è di mezzo un web server e quindi quello che è il comportamento che voi ottenete accedendo tramite HTTP o HTTPS quindi avete una lettura di un contenuto mediata da un server web quando accedete direttamente a un file questo non avviene e quindi potreste avere una visualizzazione un comportamento della pagina HTML che non rispetta quello che invece avviene normalmente passando attraverso un web server quindi va bene utilizzare file ma attenzione che non sempre ottenete quello che vi aspettate abbiamo host che corrisponde al nome di dominio del server a cui vogliamo collegarci a volte è possibile utilizzare localhost che significa lo stesso computer da cui stiamo facendo la richiesta questo è molto comodo l'abbiamo visto con qualche esempio con web storm se vogliamo avere su una stessa macchina ovviamente per motivi di test sia il browser che il server per cui andiamo a modificare facilmente i contenuti e andiamo a passare attraverso il server per ottenere i contenuti stessi visualizzandoli tutti in locale poi abbiamo path che è sostanzialmente un meccanismo che ci permette di andare a definire una struttura tipo file system quindi ad albero di tutti i contenuti che stanno su un server attenzione non sempre il path che io vado a specificare all'interno di un url corrisponde al percorso all'interno del file system locale di solito si parte da quella che è una cartella che viene che è considerata la radice del nostro server web e poi i path fanno riferimento a quella sottoporzione di file system per quanto riguarda la query normalmente quando io ho una richiesta di tipo get e voglio andare a passare delle informazioni a un server web che quindi di solito le rigirerà all'application server vado a mettere una serie di campi definiti da il nome del campo uguale il suo valore concatenati tramite il carattere di e commerciale quindi quando devo fare una richiesta andrò a fare una richiesta di tipo get e metterò un punto interrogativo e poi tutti i valori che io voglio passare sono sostanzialmente i parametri che passo al mio application server per quanto riguarda il fragment io poi posso utilizzare all'interno di un mio documento diversi punti a cui poter saltare come faccio a definire questi punti molto semplicemente vado a mettere un attributo che si chiama id e questo attributo id definisce che quell'elemento è il punto a cui faccio riferimento quanto uso un certo fragment quindi ad esempio quando io ho una ad esempio una sezione che si chiama info section ecco quando utilizzerò il fragment hash info section il mio browser salterà alla sezione che ha quell'id quindi attenzione che nell'id io non metto l'hash l'hash lo metto esclusivamente all'interno dell'href per andare a spiegare che quello che segue è il nome di un frammento ovviamente all'interno di un documento io posso andare a visualizzare delle immagini le immagini però non sono contenute all'interno del file html le immagini sono delle risorse esterne a cui il documento html fa riferimento per fare questo si utilizza un elemento di tipo img che ha alcuni attributi quello fondamentale è l'attributo che si chiama src ovvero l'assorgente da cui andare a recuperare l'immagine src contiene sostanzialmente un url possiamo poi andare a specificare un titolo che è quello che verrà mostrato come tooltip quando io vado sopra un documento sopra un'immagine posso andare a specificare width and height che definiscono la larghezza e l'altezza di un'immagine sono utili se io voglio andare a rappresentare un'immagine con una dimensione ben definita attenzione quando parliamo di elementi tipo img dobbiamo ricordarci che questi sono elementi in line per cui se io metto un img all'interno di un capoverso quello verrà trattato nel flusso tranquillo continuo del mio testo quindi non avrò una capo o l'immagine separata normalmente almeno secondo html5 io dovrei andare a mettere i tagli tipo img che voglio utilizzare come immagini separate come elementi che stanno all'interno di un tagli di tipo blocco che si chiama figura e volendo posso andare a mettere sempre all'interno dell'elemento fig delle caption che sono descritte tramite degli elementi tipo fig caption questo è un esempio di come può funzionare l'elemento di tipo img vedete che nel primo esempio img è sostanzialmente dentro un testo dentro un capoverso mentre invece nel secondo caso si trova all'interno di un elemento tipo figure ed è accompagnato da una caption quindi il risultato è quello che noi vediamo qui vedete che nel primo caso l'immagine è sostanzialmente in linea quindi questo rappresenta chiaramente come l'elemento img sia di fatto un elemento tipo in line nel secondo caso invece l'elemento figure racchiude la figura e quindi definisce quello che è un blocco quindi vedete che c'è un salto verticale e un'interruzione in generale quando parliamo di html andiamo a far riferimento a diversi tipi di elementi che ci permettono di strutturare il nostro documento i nostri contenuti in html 4 c'erano alcuni documenti alcuni elementi di tipo strutturale che permettevano di andare a definire l'organizzazione dei nostri contenuti gli header quindi da 1 a 6 e poi degli elementi che si chiamano div div sta per una divisione del nostro documento div è pensato almeno all'epoca era stato pensato più per andare a rappresentare delle interruzioni di rappresentazione più che interruzioni di contenuto per cui l'uso dei div almeno in html 5 è un qualcosa che non dovrebbe essere fatto perché erano pensati come dei blocchi degli elementi che potevano essere visualizzati con attributi diversi e abbiamo poi anche un altro tipo di elemento questo inline che si chiama span che permette di andare a identificare un'estensione un piccolo elemento di testo a cui applicare nuovi criteri di visualizzazione di nuovo non ha un significato semantico chiaro ma semplicemente dice questo frammento di linea lo voglio andare a trattare come italico bold verde rosso carattere più piccolo carattere più grande eccetera di nuovo erano due elementi pensati più per la presentazione che per i contenuti per questo motivo in html 5 sono stati definiti una serie di elementi che permettono di strutturare i contenuti e questi elementi hanno una connotazione esclusivamente semantica non di tipo di rappresentazione o di visualizzazione questi elementi sono quelli che vediamo qui abbiamo innanzitutto article che è un elemento che serve per andare a contenere un insieme di contenuti che siano autocontenuti è quello che possiamo pensare un articolo all'interno di un giornale potrebbe essere un capitolo di un libro poi c'è section che è un elemento che permette di andare a definire una sezione potrebbe essere un paragrafo paragrafo inteso nel senso italiano una sezione anche di un documento un po' più grande abbiamo poi un elemento che si chiama nav che è quello che permette di andare a includere dei frammenti che permettono la navigazione all'interno di un contenuto più ampio potrebbe contenere l'indice potrebbe contenere gli elementi che sono più importanti abbiamo poi un elemento che si chiama aside che è pensato per andare a definire degli elementi laterali quindi quelli che potrebbero essere rappresentati in un articolo piuttosto che in un libro come un box separato come viene rappresentato non è detto semplicemente dice questa è un'informazione collaterale non fa parte del documento principale ma può essere utile come approfondimento poi andremo di volta in volta a seconda dello stile che adotterà un documento a rappresentarlo in maniera più o meno diversa ovviamente abbiamo sempre i titoli h1 h6 che sono uguali identici a quello che c'era in html4 solo che sono pensati in questo caso per andare a identificare dei titoli che stanno come descrizione del contenuto all'interno di una sezione quindi non più separati e a sé stanti ma bensì all'interno di una sezione e poi abbiamo due elementi header e footer che sono pensati per andare a rappresentare qualcosa che sta in cima al nostro documento o in fondo la parte la barra in fondo di un testo piuttosto che la parte iniziale in alto di un documento quindi in html5 la raccomandazione è utilizzare questo tipo di elementi piuttosto che quelli definiti in html4 che invece avevano più un significato di presentazione che un significato semantico come invece abbiamo nel caso di html5 l'ultimo tipo di elemento che vediamo in questa lezione è rappresentato dalle tabelle le tabelle sono descritte in html utilizzando gli elementi table le tabelle a loro volta possono contenere altri elementi le righe che sono descritte dagli elementi di tipo tr ogni riga a sua volta contiene quelle che sono le celle della tabella che sono descritte tramite elementi tipo td quindi table riga e cella all'interno delle celle io poi posso andare a descrivere il mio contenuto usando html normale quindi la descrizione delle tabelle di solito viene fatta per righe inoltre è possibile utilizzare in alternativa a td l'elemento th che sta a indicare un header quindi il titolo di righe o di colonna della tabella che quindi verrà visualizzato con uno stile leggermente diverso di solito un po' più enfatizzato inoltre all'interno di una tabella io posso avere gli elementi di tipo caption che mettono delle etichette per la tabella ecco quello che è un esempio di come possiamo andare a descrivere una tabella la tabella che vediamo qua contiene una caption e poi contiene tre righe la prima riga come vedete non ha dei td ma dei th e sta ad indicare che quelli sono i titoli delle colonne come viene visualizzata la tabella lo vediamo qui sotto attenzione il tipo di visualizzazione è ovviamente funzione dello stile che io uso in questo documento quindi il fatto che ci sia il titolo in arancione non è una regola generale normalmente il titolo viene trattato in maniera leggermente diversa quindi questa prima riga tr è quella che viene rappresentata in arancione in arancione perché sostanzialmente è la prima riga e contiene degli edere quindi sono in grassetto l'elemento precedente la caption invece è quella che viene descritta come etichetta label della nostra tabella complessiva infine abbiamo poi due righe che sono quelle che vediamo qui sotto che invece sono le due righe sottostanti di nuovo il fatto che vengano rappresentate con colori di sfondo alternati di nuovo è una scelta dello stile utilizzato in queste slide in generale dipende dello stile utilizzato dal documento normalmente le tabelle vengono rappresentate come una griglia che è una rappresentazione diciamo non ideale per le tabelle quindi a questo punto noi abbiamo visto come un documento html è strutturato il fatto che in html5 ci sono una serie di elementi di tipo strutturale che hanno un significato semantico quindi article section che mi dicono come è strutturato il documento in termini di contenuti lasciando da parte quella che è la visualizzazione e inoltre abbiamo degli elementi tipo inline ad esempio em e strong che di nuovo vanno a denotare il significato di un elemento lasciando da parte invece il tipo di rappresentazione rappresentazioni che invece erano abbastanza legate ad alcuni tag alcuni elementi definiti in html4 ad esempio b e i per bold l'italico div oppure gli span che sono utilizzati sostanzialmente per dare delle connotazioni di tipo rappresentativo o di visualizzazione più che semantico quindi di significato di un frammento di testo ovviamente abbiamo i classici elementi che sono le immagini che possono essere incluse all'interno di un documento le liste e le tabelle che di nuovo mi danno un tipo di organizzazione del contenuto senza dare un significato semantico particolare ovvio quando ho una tabella ho righe e colonne e poi come queste vengono rappresentate dipende molto dallo stile che ho utilizzato quindi questi sono i contenuti fondamentali di quello che è il linguaggio html dobbiamo ovviamente ancora andare a discutere di tutta una serie di dettagli che vedremo in una prossima lezione